Buon pomeriggio, benvenuti! Ma facciamo un po' di festa, l'auricella si sposti con cortesia anche se è un bel uomo. Ragazzi, c'è il colore? Siete pronti con il colore? Allora, fra 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Ragazzi, abbiamo una festa pranzesca e sarà così fino alle 6 del pomeriggio. It's right for the night, Domenico Pomeriggio Caeso, l'ultimo pomeriggio due ore in diretta assolutamente, ce l'abbiamo solo noi, DJ Giuseppe Sedino, oggi dal conclave Roberto Los Crudato. Questa è un tempo, forse mai viste. Sedena, lei è una maturale, oppure una televisione nazionale, quasi. Siete pronti? Fatemi vedere i sacchetti di colore? Ma ci siamo, allora ragazzi, aprite i sacchetti, facciamo il countdown, tutti quanti pronti per la prossima esplosione. E' uno 10, 8, 6, 4, 2, esplodi! E' uno 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! E' uno 10, 8, 6, 5, 4, 3, 1, via! E' uno 10, 8, 6, 5, 4, 1, via! Buon bisogno! Ciao di seri! Ciao di seri! Ciao ragazzi! Ragazzi c'è qualcuno ancora che ha ossaggiato fra le mani! Passi! C'è qualcuno ancora che ha ossaggiato fra le mani! 8 6 4 2 Esplodi! 8 6 4 2 Esplodi! E' una bella storia ragazzi, se lo abbiamo solo noi, se ne abbiamo solo noi, we got the party, bye! E' la domenica pomeriggio Ca' è il summer